Nel 1963, sotto il nome di Impresa Nesti, prende il via l'attività nel campo dell'edilizia con particolare interesse verso ristrutturazioni e recuperi funzionali di edifici anche di interesse storico, come la chiesa di San Rocco a Torino, il castello di Sciolze, il convento in Torino, nonché la realizzazione di importanti ville padronali a Moncalieri, Pecetto e Gioveno. Parallelamente con la Shed SAS vengono realizzati insediamenti industriali in Piemonte e Sardegna. Nel 1998 nasce la Nesti Costruzioni Edili SRL, dedicata principalmente alla costruzione di edifici di civile abitazione con specifiche connotazioni di qualità e prestigio. Forte dell'esperienza acquisita oggi, la nostra società offre alla propria clientela case solide, curate, funzionali ed accoglienti, dove sia immediata la sensazione di agio e benessere. Per garantire questi standard è stato necessario selezionare attentamente i fornitori e soprattutto avvalersi di professionisti altamente qualificati. E la qualità non deve essere solo apparente, ma sostanziale. Ecco il perché delle scelte di materiali di prima qualità, oltre che belli, impianti funzionali e di gestione economica. La naturale evoluzione di questo percorso ci ha portato a decidere di realizzare, tra i primi nel nostro territorio, edifici a risparmio energetico in classe energetica A. Le nostre costruzioni in corso d'opera sono solo ed esclusivamente classe A, perché secondo noi, al giorno d'oggi, non esiste alternativa. Questa scelta tecnologica ed ecologica non rappresenta al futuro, bensì il presente. Inoltre, elemento non trascurabile, l'immobile evoluto realizzato con tecnologie avanzate è l'unico che garantisce la rivalutazione dell'investimento del cliente. Oggi la sfida è il risparmio energetico che coniuga economia ed ecologia. E questa è la nostra risposta. Nesti Costruzioni, la casa del futuro. Oggi. Oggi.